L'emergenza sicurezza a Vigonza sta vivendo una nuova fase, sta vivendo la fase della spesa natalizia. È una di quelle tradizioni di cui si farebbe volentieri a meno, ma tant'è come oramai d'abitudine il periodo che precede le festività natalizie fa segnare un aumento dei furti. A Vigonza il comitato 11 settembre che raccoglie i consiglieri d'opposizione concentra le attenzioni soprattutto su una delle ultime frontiere dei ladri, i garage. I cittadini italiani la spesa la fanno nei supermercati, le bande dell'est la fanno nei nostri garage. Ed è come succede, ma quest'anno è una situazione un po' più pesante rispetto agli altri anni, perché non c'è una sera o una notte in cui non c'è una razzia nei garage della zona. La richiesta del comitato che ogni mese realizza un blitz in una zona difficile del comune è di una svolta decisa in tema sicurezza. Noi siamo un comune con 23.000 abitanti, abbiamo nel territorio 16 telecamere attive, mentre 90 che è qua vicino con la metà degli abitanti di Vigonza, 76 telecamere e molto più moderne delle nostre. Il sindaco secondo me deve chiedere anche al prefetto, al questore, un intervento, fare squadra, insomma, perché i carabinieri di Vigonza, oltre al territorio di Vigonza, devono guardare anche il territorio di Villanova, di Campo San Piero. Quindi aspetta anche il sindaco di Vigonza confrontarsi con il sindaco di Villanova e Campo San Piero e andare dalle istituzioni a chiedere aiuto. Quindi aspetta anche il sindaco di Vigonza.